Allora, riprendo partendo da due o tre avvisi pratici, ovviamente così ci rifocalizziamo. Allora, la prima cosa è le quattro cose fondamentali operative per riuscire a seguire il corso. La prima, l'ho già messo nelle mail, l'ho già messo negli avvisi, questo è il sito su cui c'è tutto il materiale. Ok? E' fuori dal portale, quindi anche se ci fossero dei problemi di rete col portale del Politecnico, non abbiamo problemi. Chi non fosse iscritto, se il codice è sbagliato, c'è una serie di casi particolari, non c'è problema, potete accedere qua. Su questo sito ci sono, oltre che il materiale, anche le video lezioni che via via vengono registrate. Ok? Qui c'è questa sezione che si chiama registro delle lezioni, dove ci sono per ogni lezione le slide e i video registrati. Questo è il video di cui parlavo prima, quella mezz'oretta introduttiva, e poi via via li pubblicherò qua. Ok? In questa settimana, queste sono le lezioni, quindi le lezioni che faremo in aula, le faremo qua, vengono registrate e le pubblico su questo sito, poi vanno anche su YouTube e le metterò anche sul portale, così le potete vedere dall'app del Poli, quindi non avete difficoltà sicuramente a reperire il materiale. Questa settimana non abbiamo fatto le esercizioni del martedì, perché non aveva senso fare laboratorio prima di vederci, recupereremo quell'ora e mezza con un video che pubblicherò probabilmente venerdì, sui diagrammi di flusso, che è argomento del laboratorio della settimana prossima. Ok? Quindi l'ora e mezza in cui vi lasciate a casa tranquilli martedì, ve la guardate con un video che pubblicherò. Per quanto riguarda le lezioni del giovedì, cioè domani, sono lezioni online, ok? In aula virtuale. Anche qua, per semplicità, l'aula virtuale la facciamo usando Zoom con un indirizzo, con un link che è sempre lo stesso, sarà sempre lo stesso per tutto l'anno, ok? Ve l'ho messo negli avvisi, forse l'ho anche messo qua, se non sbaglio nell'informazione del corso. No, non l'ho messo qua. Ah, è qua, scusate, è qua, link per l'accesso. Quindi su questa pagina trovate il link Zoom, è sempre lo stesso per tutto il corso, per le lezioni del giovedì, ok? Qui non vi arriverà la mail del portale virtual classroom in corso o altro, ok? Ricollegate lì, io a 5 minuti esatti dopo l'inizio dell'ora inizio la lezione. Vi do 5 minuti per entrare. L'altro strumento essenziale è il gruppo Slack, no? Il cui dovreste essere tutti iscritti, se qualcuno non fosse ancora iscritto lo faccia subito. Che useremo sia come strumento per darvi gli avvisi, sia come nel canale discussione, strumento per voi, per poter fare domande, osservazioni, qualunque cosa, durante la settimana. Qualunque momento potete condividere, chiedere qualcosa su questo canale, discussione, e noi leggiamo, rispondiamo, ci chiamiamo di aiutarvi. Siete a casa che state facendo un esercizio e non vi viene? Avete bisogno di aiuto? Scrivete. Magari alle 2 di notte non rispondo, ecco, però per il resto della settimana sì. Poi abbiamo un canale che si chiama Lezione Live. Adesso è lento. Tra l'altro all'interno di questo canale, qua sopra, è riportato di nuovo il link Zoom. Questo canale Lezione Live lo useremo solamente durante le lezioni del giovedì, ok? In quelle lezioni lì usiamo questo canale come chat per la lezione stessa. Non usiamo la chat di Zoom sia perché è più brutta, sia perché poi quando chiudiamo la conversazione, la virtual classroom scompare, no? La chat. Mentre invece qua rimane, così possiamo andarci a rivedere cosa è stato detto, la domanda che è stata fatta. A me serve alla fine lezione andarmi anche a rivedere magari dei punti che non sono stati, non sono riuscito a trattare, non sono riuscito a rispondere. Quindi quando facciamo la lezione del giovedì, videochiamata in Zoom e in parallelo chat su Slack nel canale Lezione Live per le domande e per le conversazioni, ok? Per quanto riguarda il laboratorio. Il laboratorio lavorerà nel canale Laboratorio per quanto riguarda il primo turno. sapete che ci sono tre turni, due turni in aula e un turno in presenza, la squadra 3. Chi può venire in aula si prenoti alla squadra 1 o alla squadra 2 a seconda del cognome. Vi ricordo che la squadra 1 ha i cognomi fino alla K compresa, la squadra 2 è la L praticamente, dalla L in poi ma non c'è la M nel nostro corso, quindi sono quelli con la L. Ho visto già le prenotazioni sbagliate, ok? Ho visto persone che sono prenotate nei due turni oppure nel turno sbagliato perché magari gli faceva più comodo o altro. Allora cerchiamo almeno per le prime settimane, poi vediamo quale sarà l'occupazione dell'aula. Non cercate di mettervi nel turno corretto. Squadra 1 dalla A alla K, squadra 2 dalla L alla Z. Se non venite quel giorno in presenza potete partecipare al turno delle 10 del mattino. Vuol dire che alle 10 avete fatto colazione, potete accendere il computer e guardarvi gli esercizi di laboratorio proposti che sono, indovinate un po' dove, su sempre quel sito del corso dove c'è scritto laboratorio e c'è già adesso il testo del martedì prossimo, vi guardate il testo e cominciate a risolverlo per conto vostro. Se avete domande, se avete dubbi, se non vi viene qualcosa sul canale laboratorio scrivete la domanda e ci saremo noi che cerchiamo di aiutarvi. Quindi il laboratorio all'ora e mezza si tiene, diciamo così, su questo canale Slack. Così si può anche condividere videotipi, si può condividere codice, quello che volete. Questo, la squadra 3 è quella online, non c'è bisogno di prenotarsi, non è necessario, basta semplicemente collegarsi a questo canale e dalle 10 alle 11.30 ci sarà qualcuno di noi che risponde ai vostri dubbi, alle vostre domande. Se poi volete fare tutto, fare l'unplane e collegarvi sia al mattino alle 10 che venire al pomeriggio in aula, noi ci siamo, non vi mandiamo via. Direi che queste sono le cose fondamentali per riuscire a chiudere la settimana. Il testo del laboratorio lo pubblicheremo sempre la settimana prima in modo da rovinarvi il weekend, se piove, adesso comincerà a piovere, quindi potrete nel weekend andarvi a guardare l'esercizio del martedì successivo. Se riuscite a guardare l'esercizio prima dell'inizio del laboratorio è meglio, perché magari così quando arrivate in aula a far domande, avete già visto il testo, avete già ragionato e quindi fate domande più utili per voi, perché magari avete già avuto modo di pensarci. Non fatevi problemi a far domande né in aula, ma neanche su questo canale Slack che abbiamo costruito apposta. Ok, quindi queste erano solo quattro informazioni di minima per poter andare avanti. Adesso iniziamo, la prendiamo un po' alla larga. Dimmi, gli esami come saranno? Buona domanda, c'è la risposta completa nel video di mezz'ora che dovete guardare, ma in pratica saranno tre domande di teoria e un programma da scrivere nel tempo che probabilmente sarà un'ora e mezza. Ah no, l'altra cosa che non ho detto, grazie che me ne hai fatto ricordare, è per i laboratori, il laboratorio sarà ovviamente un laboratorio informatico, ma lo facciamo nelle aule del Politecnico, R1B, R2B, quelle che probabilmente avete già visto ieri. Lì non ci sono i computer e quindi dovete portare voi un vostro computer per poter fare il laboratorio. Questo perché i laboratori informatici del Politecnico non sono ancora attrezzati per poter accogliere i numeri grandi. Ok? Allora vi portate i computer, nell'aula ci dovrebbero essere prese, quindi potete lavorare tranquillamente. Se vi prenotate bene nei due gruppi dovrebbe esserci spazio comodo per tutti e comodo vuol dire anche che ci sia magari lo spazio per noi per poter passare in mezzo alle file e venire a vedere cosa state facendo, entrare nel merito dell'esercito che state facendo, aiutarvi a rispondere a quelle domande. Ok? L'esame sarà dello stesso tipo, nel senso che ciò che prevediamo per il momento, ma ve lo dirò con certezza poi più avanti, perché ancora, c'è ancora dei dettagli da definire, sarà un esame che si svolgerà molto probabilmente in aula con il vostro computer. Ok? Non userete PyCharm che avete usato sul vostro computer, ma ne faremo usare uno che sta dentro una macchina virtuale controllata per essere sicuri che non andiate a prendere cose, ma quello poi lo vediamo le ultime due settimane del corso, faremo esercitazioni con lo stesso tool che useremo all'esame, qui ci sarà modo di provarlo prima e vedere che tutto funziona. Però l'esame sono appunto tre domande di teoria che danno un punteggio di sei punti e un programma da scrivere che dà un punteggio di 27 punti. Ok? Sei più 27. Poi non dite che non siamo generosi. Ok? E' chiaro che il programma è la parte più importante, ma è la parte di teoria di cui ci sono tre domande, una è sulla numerazione, la seconda è sull'architettura dei calcolatori, la terza è sulla programmazione. Ok? Comunque abbiamo modo poi quando saranno più vicini di piegarvi meglio come organizzeremo le cose. Ok, altre domande? Dimmi. No. La videolezione è quella di oggi? No. Quando volete. È una mezz'oretta che vi dà istruzioni, il libro, il sito, queste cose qua. Mentre invece la lezione che pubblicherò giovedì e venerdì è da guardare prima di martedì. No, i laboratori non sono registrati, non avrebbe senso registrarli perché potete registrare, non c'è nessuno che spiega. Ok? Siete voi che lavorate, quindi potete registrare voi che lavorate, ma diventa una serie tv abbastanza noiosa, ecco. E quindi chi vuole fare il laboratorio offline c'è il turno del mattino e se lo fa così, però non ci sono spiegazioni. Poi dopo, cioè la settimana successiva pubblicheremo le soluzioni, ma le soluzioni non servono a niente, no? Perché se io vi avessi dato il programma che ho svolto dicendo questa è la soluzione, non vi avrebbe permesso di capire il ragionamento che è stato fatto a monte per costruire quella soluzione. Quindi uno degli errori che ingenuamente molti tendono a fare è studiarsi le soluzioni fatte da qualcun altro. Non serve a niente. Gente che arriva con pacchi di soluzioni di 600 pagine stampate così, qualunque cosa mi chieda ce l'ho, no, non serve. Serve che tu sia in grado di fare quel ragionamento che ha portato a una soluzione, magari non arriverà la stessa che ho fatto io nella soluzione, che è la stessa soluzione che propongo io. Su questo noi cerchiamo nelle associazioni, attraverso Slack, eccetera, di darvi risposte ai ragionamenti che fate voi. Io ho pensato di fare così, poi magari ti dico no è sbagliato. Ma non ti posso, se io ti spiegassi subito il ragionamento che faccio io non ti servirebbe per imparare a fare il tuo. Ok? Spero che poi sarà più chiaro quando faremo esercizi. Però veramente se dovessi darvi un consiglio, il più importante di tutto il corso è fate gli esercizi, davvero, da soli, col computer. Questa è la cosa più importante, il libro potete anche buttarlo via, le lezioni le potete guardare a 4x, non mi frega niente. Però se fate esercizi l'esame lo passate. Ma fare vuol dire non sedersi vicino al mio amico che è più bravo. Le abbiamo fatte insieme, io così. Ok? Ci arriviamo. Ok, altre? Sì? Non ti sento? Continuo, scusate. Il canone Slack? È possibile comunicare vocalmente? Pietà, ecco. Tecnicamente sì, ma preferisco di no, ecco. Ok. Allora, iniziamo ad affrontare la domanda cos'è la programmazione, quindi questa prima unità, il corso è diviso in 8 unità, 1, 2, 3, 4, più 2 di teoria. La prima unità vi dà una panoramica sulla programmazione e la esauriremo nel corso di questa settimana, oggi, domani è la lezione extra sui flowchart. e arriveremo alla fine di questo percorso a introdurre effettivamente il linguaggio Python che poi dalle settimane successive invece entreremo nel tecnico sui vari costrutti. Allora, per parlare di programmazione, qualcuno di voi queste cose le ha già viste, quindi se vi addormentate non mi preoccupo, poi magari c'è anche la fame a quest'ora. qui noi in informatica ci occupiamo di una cosa, dell'elaborazione dell'informazione, rappresentazione e elaborazione delle informazioni, attraverso i calcolatori elettronici. poi il calcolatore è lo strumento, la disciplina è quella di rappresentare le informazioni, che possono essere informazioni testi, numeri, immagini, filmati, eccetera, non vocali, quelli e poi li elaboriamo, nel senso che sulla base di alcune informazioni di partenza calcoliamo dei risultati, degli output. quindi, schematizzandolo, banalizzandolo al massimo, lo schema è questo, noi abbiamo un elaboratore che riceve dei dati di ingresso, oh, questi dati glielo ho messi io in un file, oppure gli ho scattato la foto, oppure l'ho inserito nella tastiera, e produce dei risultati. il risultato può essere, che ne so, l'immagine elaborata, può essere il calcolo numerico, il risultato del calcolo numerico di inequazione o altro, produce degli output sulla base degli input, produce dei risultati sulla base dei dati, manipolando questi dati attraverso opportune procedure di calcolo o di elaborazione. calcolo è la parola da cui nasce computer, to compute, elaborazione è la parola da cui nasce elaboratore, che sarebbe il nome italiano del computer, ammesso che qualcuno lo usi. Quindi la natura di un computer è to compute, fare calcoli, e poi vedremo che in realtà il calcolatore principalmente fa calcoli con i numeri, poi che noi riusciamo a farlo lavorare anche su immagini, video, suoni, eccetera, è perché in qualche modo abbiamo costruito una versione numerica di quelle informazioni. La famosa digitalizzazione significa trasformare i numeri, digit, cifre numeriche, le informazioni di varia natura. Quindi dal punto di vista del calcolatore la sua vita è abbastanza triste, fa una cosa sola, elabora dei dati per produrre dei risultati, nessuno di noi farebbe cambio con quella vita. Dati codificati in qualche modo, codificati nel senso che il calcolatore lavora con i numeri, anzi con lo 0 e con l'1 e in qualche modo dovremmo prendere le informazioni che abbiamo, l'elenco degli studenti e rappresentarli, codificarli in qualche modo che sia leggibile dal calcolatore. I dati numerici si codificheranno in un modo, i dati testuali, le parole, il testo si codificheranno in un modo diverso e così via, in modo che da poter inserire dentro il calcolatore quel dato lì. Internamente sono tutti numeri, quando li carico devo convertire l'immagine, il testo in numeri. Questa è l'operazione di codifica. Poi questo calcolatore, dicevo, fa un'elaborazione. Quale? Allora abbiamo dei calcolatori che sono in grado di fare un'elaborazione sempre la stessa. Cioè quando voi premete il tasto sul microonde o sulle lavastoviglie o sulle lavatrice, lì dentro c'è un computer che è in grado di fare una cosa, il ciclo di lavaggio. E il ciclo di riscaldamento. Quando prendiamo un personal computer invece è programmabile, nel senso che a seconda dei programmi che ci metto sopra lui farà cose diverse. Ma la natura dell'oggetto è la stessa. C'è comunque un componente, un processore all'interno del calcolatore che esegue un programma e sulla base di che cosa dice questo programma farà cose diverse, calcolerà un risultato diverso. Quindi dentro il calcolatore non solo devo inserire i dati, ma devo inserire anche le istruzioni, gli ordini, che dicono che cosa fare su questi dati. Cioè non è che quando oggi vi ho detto dobbiamo trovare il nome più frequente in aula ci sia venuto in mente ok allora devo andare a comprare, vado su Amazon e compro un computer che calcoli il nome più frequente in aula. No. Che cosa calcolo non è deciso dal computer, il computer è una macchina versatile che può essere programmata, cioè gli posso dire che cosa fare, a seconda di che cosa gli dico lui verrà utilizzato per svolgere un compito piuttosto che un altro. Però questo vuol dire che in qualche modo dentro il computer deve star scritta l'operazione da fare. E queste possono cambiare, quindi posso caricarne delle nuove. E poi alla fine questo computer calcolerà dei risultati, questi risultati saranno sotto forma di numeri, di 0 e 1 nella sua memoria, e a me sarebbero poco che il calcolatore alla fine mi dicesse ho calcolato il risultato. Eh va bene, quant'è? Va bene che tu l'abbia calcolato ma dimmi anche qual è il risultato. E quindi ho bisogno di un'operazione inversa di decodifica dei dati dentro il calcolatore in una forma che sia fruibile dall'utente, dall'essere umano. E quindi se è un'immagine me la fai vedere, se è un testo me lo fai leggere, se è un suono me lo fai ascoltare, in modo che se voi prendete un computer e gli togliete lo schermo, ma il computer è tranquillo, non ha bisogno dello schermo, siamo noi che abbiamo bisogno dello schermo per poter vedere i risultati di elaborazione. Se gli togliete la tastiera o il mouse, lui tranquillo, siamo noi che abbiamo bisogno della tastiera per poter inserire delle lettere. Fin tanto che non nasceremo con la porta USB nella nuca e ci potremo collegare direttamente e trasferire i dati direttamente col calcolatore, avremmo bisogno di mediazioni per trasformare dei dati nella forma che noi possiamo leggere, scrivere, percepire, generare alla forma digitale che invece il computer può elaborare. Alla fine tutte le forme di informazioni vengono tradotte in numeri e in particolare questi numeri dentro al calcolatore sono rappresentati sempre in base 2. Poi impareremo un attimo anche a fare due calcolini con la base 2, ma è una cosa semplice. La base 2 è una base numerica fatta solamente da due cifre, anziché dallo 0 al 9 usiamo le cifre dallo 0 all'1. Può sembrare strano, ma alla fine si possono comunque rappresentare tutti i numeri e fare tutte le operazioni anche in questa base numerica strana. Quindi il cosiddetto bit è una parola che significa binary digit, vuol dire cifra binaria, vuol dire cifra, un numero binario, cioè o 0 o 1. Dentro al calcolatore tutta l'informazione è sotto forma di bit, fuori dal calcolatore tutta l'informazione è sotto qualunque altra forma che non sia quella però. Qui c'è, sono due mondi, quello digitale all'interno e quello esterno analogico. Quindi il calcolatore in qualche modo ha due anime, no? Proprio per il fatto che lo stesso calcolatore può eseguire elaborazioni diverse a seconda delle istruzioni che riceve, c'è una parte fisica, noi chiamiamo l'hardware della macchina, i componenti fisici di cui è composto il calcolatore e poi c'è una parte di informazione logica, il software, che codifica le istruzioni per dire all'hardware che cosa fare. Detto in termini brutali, l'hardware è quella parte del calcolatore che se cade per terra si rompe. Posso rompere lo schermo, posso rompere la tastiera, posso rompere il processore, posso risaldare le memorie, eccetera. Però il calcolatore non è solo il proprio hardware, perché se io compresi un computer, cancellassi tutto il disco, cancellassi tutto, cosa me ne faccio con il computer? Niente. Se togliesi tutti i programmi, quello sarebbe hardware puro, ma l'hardware da solo non sa che cosa fare. Quando accendo il computer, gli do corrente, l'hardware del calcolatore inizia a eseguire un programma. All'accensione sarà il programma di avvio del sistema operativo. Questi programmi che il processore esegue, che il computer esegue, sono complessivamente il software. Programmi alcuni scritti da noi, alcuni scritti da chi ha, che so, dalla Microsoft per il sistema operativo Windows, dalla Apple per il sistema operativo del Mac, o programmi che ho comprato, che ho scaricato, o PyCharm che abbiamo scaricato, qualcuno l'ha scritto quel programma. Questo programma contiene milioni di istruzioni e quando avviamo quel programma il mio computer comincia a fare ciò che aveva deciso quel ragazzo in Cecoslovacchia che è dipendente della JetBrains, che è la casa che ha costruito PyCharm. Oppure comincia a eseguire le istruzioni che abbiamo scritto noi insieme per calcolare le frequenze degli studenti, dei nomi degli studenti. Quindi il software è ciò che decide che cosa fare, ma il software è pura informazione. Da solo non fa nulla. Se io ho un programma e lo proietto lì sullo schermo, quel programma se ne sta lì fermo. Ci vuole qualcuno che lo esegua un'istruzione dopo l'altra. E chi lo esegue è l'hardware. Quindi è una combinazione di questo genere. L'hardware chiaramente è fatto di tante componenti. Faremo una lezione più avanti in cui cerchiamo di entrare un pochino più in dettaglio in quella che si chiama l'architettura del laboratore. Quindi quali sono i pezzi e come si... quali sono i componenti e come si collegano. Principalmente noi abbiamo il cuore del calcolatore che è la cosiddetta CPU, è l'unità centrale di elaborazione CPU, che è quella nella quale avviene l'effettiva elaborazione. Nella quale le istruzioni che scriviamo vengono davvero eseguite. Se io sto scrivendo incremento del contatore di 1, questo incremento, cioè il fatto che da 6 diventisette, avviene solo dentro la CPU. È l'unico pezzo del calcolatore che sa fare il calcolo, che sa fare cose. Tutto ciò che sta intorno lo aiuta. Ciò che sta intorno sono principalmente dispositivi di memoria, la memoria RAM o la memoria di massa, nella quale sono scritti i programmi, nella quale sono salvati i dati. La CPU parte e dice ah io voglio eseguire un programma. Dove lo prendo il programma ad eseguire? Dalla memoria. Su che dati lavoro? Su quelli che sono in memoria. E i risultati dove li salvo? In memoria. Quindi la CPU e la memoria lavorano in tandem strettissimo. La CPU sa fare cose, ma non sa quali e su quali dati. La memoria contiene le istruzioni, cioè i quali, il programma, e i dati. Sia i dati di ingresso che i dati di uscita. Poi ci sono varie tipologie di memoria, memoria di massa, memoria interna, eccetera. A seconda delle esigenze, ma all'interno del calcolatore ci sono varie fasce di questo. Come dicevo, ne parleremo meglio più avanti. E poi l'altra, e quindi un vero, il cuore del computer è fatto da questa coppia CPU-memoria. Che se andiamo a prendere un computer di un chilo e mezzo come questo, alla fine peseranno 50 grammi? Tutto il resto è zavorra. Il resto cos'è? Sono le periferiche. I dispositivi che servono per immettere i dati, la tastiera, il mouse, la telecamera, il microfono, le batterie, i dispositivi che servono per visualizzare le informazioni, lo schermo, l'altoparlante. Tutti questi elementi non contribuiscono direttamente all'elaborazione che avviene dentro la CPU, eseguendo un programma che sta in memoria. Ma queste periferiche servono per acquisire i dati d'ingresso e rendere visibili i dati in uscita. Si chiamano periferiche perché dal punto di vista della CPU è roba fuori. Non è il core dell'elaborazione. Questo disegno cerca di riassumerlo in cui hai la CPU, la memoria interna e poi una serie di cose che stanno fuori che possono essere periferiche per l'utente, che possono essere periferiche di memoria di massa, quindi gli hard disk, le chiavette usb eccetera. Adesso qui metto i floppy disk e ti immagino capite che è un po' anziana ma il concetto non cambia. Il monitor, gli autoparlanti collegati da opportune schede di interfaccia verso l'esterno. Questi oggetti li vediamo disegnati fuori da questa scatola. Ci sono periferiche esterne così come ci sono periferiche interne tipicamente dei dischi. Ma non sono mai direttamente collegati alla CPU o alla memoria, sono collegati attraverso una struttura che si chiama BUS che poi avremo modo di approfondire. Sono dei fili essenzialmente organizzati in un certo modo. Mentre invece il software è tutto il resto. Il software lo mettiamo nella memoria RAM in qualche modo e come fa ad arrivare nella memoria RAM? Viene letto dal disco tipicamente quando accendo il computer leggo il disco il sistema operativo lo carico in memoria e la CPU comincia a eseguire. E questo è il software di base il sistema operativo. E poi ci sono i software applicativi software per risolvere problemi il foglio di calcolo l'Excel il Word il PowerPoint il programma di posta Chrome il browser Firefox PyCharm eccetera sono programmi applicativi che ogni utente li avrà diversi a seconda di ciò che vuole farci con quel computer i giochi programmi di editing video sono delle applicazioni che risolvono problemi specifici per l'utente che interagiscono col software di base che è il sistema operativo stesso che permette al computer di accendersi di entrare di vedere i file di fare le copie cioè le operazioni di base con il calcolatore stesso dal punto di vista della CPU non fa molta differenza per lui sono tutti programmi e li esegue tutti uno dopo l'altro un'istruzione dopo l'altro un comando dopo l'altro la CPU è un oggetto che esegue istruzioni nell'ordine di miliardi di istruzioni al secondo quando si parla di un computer con la CPU a 3 gigahertz 3 giga sono 3 miliardi al secondo quindi la quantità di istruzioni che viene fatta è molto elevata ma queste istruzioni che la CPU esegue che la CPU è in grado di eseguire nativamente in hardware diciamo noi è molto semplice perché la singola istruzione non è ordine ai nomi la singola istruzione è fai 3 più 2 o confronta questi due dati quindi sono operazioni che in hardware sono di basso livello molto di basso livello però facendole così tante così velocemente è possibile costruire programmi complessi anche grazie ai linguaggi di programmazione chi di voi non fa elettronica o informatica non vedrà mai come si programma una CPU davvero a basso livello nel suo linguaggio hardware gli altri lo vedranno e ringrazieranno di non doverlo fare no? nel senso che ci sono dei linguaggi cosiddetti di alto livello come Python come C come Java che ti permettono di scrivere un programma in un modo umanamente comprensibile senza dover entrare nel dettaglio di come funziona la CPU quindi anche lì ci sono vari linguaggi di programmazione ma in ogni caso tutti i linguaggi di programmazione ci permettono di scrivere dei programmi che altro non sono che sequenze di istruzioni la differenza è che magari per ordinare un elenco di nomi in Python mi basta scrivere un'istruzione che guarda caso si chiama sort e mentre in linguaggio macchina dovrei scrivere una pagina di codice probabilmente ma alla fine a qualunque livello programmiamo in qualunque linguaggio programmiamo il procedimento è sempre lo stesso definiamo sequenze di operazioni e l'ordine con cui devono essere eseguite e poi ci penserà la CPU ad eseguirle però qua stiamo già separando il momento in cui scrivo il programma dal momento in cui la CPU lo esegue quando io scrivo il programma la CPU non c'è io sto scrivendo le istruzioni per la CPU in assenza della CPU che la CPU eseguirà in essenza mia non ci parliamo non ci possiamo aiutare se ho scritto qualcosa di sbagliato quando la CPU lo esegue oramai non può più farci nulla quindi noi quando svilupperemo dovremo sempre fare attenzione c'è il momento in cui siamo il programmatore e scriviamo il codice e c'è il momento in cui siamo l'utente in cui proviamo a vedere se il programma funziona e lo stiamo eseguendo quindi io devo immaginare nel momento in cui scrivo un programma devo immaginarmi immaginare è troppo vago devo sapere come la CPU eseguirà le istruzioni che sto scrivendo ma io qua intendevo dire che no non intendevo niente o dici una cosa o ne dici un'altra perché la CPU poverina non interpreta non indovina non capisce la CPU esegue quindi io devo essere sicuro è uno dei problemi della programmazione una delle difficoltà è che ciò che io ho scritto davvero non è ciò che intendevo scrivere o meglio io pensavo di aver scritto una certa cosa ma in realtà ciò che ho scritto come programma sta dicendo alla CPU di fare una cosa diversa da quella che pensavo quindi devo imparare a immaginare che cosa la CPU a conoscere che cosa la CPU farà a fronte di una certa , di istruzione che ho scritto o di un certo gruppo di istruzioni e poi allora tutto andrà bene a questo punto poi il programma quindi la CPU può tranquillamente poi eseguire le istruzioni di programma una volta che sono caricate in memoria la CPU le prenderà una dopo l'altra queste istruzioni le esegue e calcola i risultati se il programma che ho scritto è corretto il risultato che salterà fuori da questa elaborazione avrà senso se il programma che ho scritto non è corretto o il programma si blocca a metà oppure mi calcola un dato che va bene oppure mi calcola un dato sbagliato che va male ancora peggio sarebbe meglio un programma che si blocca piuttosto che un programma che dice ok il risultato è 22 invece era 25 io mi fido di quell'output a volte i programmi lavorano in modo autonomo a volte i programmi invece lavorano interagendo con un utente quindi il programma a un certo punto chiede dei dati l'utente li inserisce elabora su quei dati stampa qualche cosa eccetera quindi sono dei programmi interattivi a volte attraverso cui l'utente può fornire dell'input al programma o magari preventivamente li metto in un file quei dati oppure interattivamente gli riscrivo nel momento il programma mi chiede qualche cosa riempio un modulo e inserisco dei dati ovviamente i dati che l'utente inserirà e darà in pasto al programma non sono noti al programmatore che ha scritto il programma magari 5 anni fa in un altro stato quello che dicevamo prima e programmare alla fine tante volte c'è il parallelo che si fa con le ricette di cucina le ricette di cucina è una serie di passaggi oppure di uncinetto se volete è una serie di passaggi di eseguire in un certo ordine per arrivare a un certo risultato e qui è la stessa cosa ma così come le ricette presuppongono una certa struttura un certo linguaggio una certa codifica e una certa conoscenza degli strumenti di base dell'operazione di base e la programmazione anche la differenza è che la ricetta viene eseguita da un essere viene eletta interpretata da un essere umano che ragiona di suo un programma invece viene eseguito da una macchina che non ragiona e quindi esegue in modo becero le istruzioni però anche qua abbiamo un hardware cioè degli strumenti che sono in grado di fare delle operazioni e nel nostro caso l'hardware chi fa le operazioni è la CPU è un software che dice che cosa fare con questi strumenti la stessa cosa quando vogliamo costruire appunto un software dovremo l'hardware e avremo il software che qualcuno ha scritto che fa sì che quell'hardware si comporti in quel modo così come cambiando la ricetta cambio il tipo di dolce che costruisco che cucino qui cambiando il software cambierò il tipo di programma che viene eseguito nella pratica scrivere un programma significa tipicamente scrivere un file di testo che contiene i comandi in un certo linguaggio di programmazione questo file che io scrivo che il programmatore scrive lo chiamiamo file sorgente file di partenza che è scritto in un linguaggio di programmazione spesso di alto livello cioè comprensibile agli utenti e nella testa del programmatore le istruzioni che sono scritte dentro quel file risolvono il problema questo nella testa del programmatore è il programmatore che garantisce che ciò che è scritto lì dentro risolvono i problemi ok? se le istruzioni che vi do che scrivo nel programma sono sbagliate nessuno può saperlo nel senso che il computer di sicuro non se ne accorge se io avessi nell'esempio di prima avessi deciso che quando trovo il nome Vito non conto quanti Vito ci sono ma visto che Vito ha quattro lettere dico che sono quattro e ci metto a fianco il numero quattro nella tabella delle frequenze che è sbagliato perché quattro non è la frequenza dei nomi Vito ma è la lunghezza del nome Vito però magari ho sbagliato io come programmatore ecco il programma funziona benissimo nel senso che fa qualcosa e tira fuori un risultato che in quel caso sarà il nome più lungo e non il nome più frequente però il computer non si può accorgere che è sbagliato sono io che devo sapere che le istruzioni che ho dato risolvano un problema diverso da quello che pensavo di risolvere quindi su questo per quello prima in una slide c'è scritto che la programmazione questo è un'arte devi riuscire a capire tu se stai sbagliando o no o qual è la la soluzione giusta tante volte dobbiamo trovare una soluzione non c'è un metodo esatto se devi fare che ne so una derivata di una funzione lunga due davagne vabbè la fai ci perdi tre giorni ma alla fine hai un metodo di calcolo che se non fai errori diciamo così di calcolo arrivi alla fine qui invece siamo al contrario dobbiamo noi costruire un metodo risolutivo per un problema che è la prima volta che affrontiamo perché l'esercizio quel testo che ci è andato oggi non l'ho mai fatto prima è diverso da tutti gli altri e anche se somiglia molto a uno che ho visto ieri ma basta che vi cambi una parola una virgola che magari il problema cambia radicalmente e va risolto in un modo completamente diverso quindi per questo non c'è analogia che regga nell'informatica bisogna creare una soluzione che non esisteva prima per risolvere un problema che non abbiamo mai visto prima o chiaro che poi non lo facciamo da zero lo facciamo imparando delle tecniche che ci possono servire per mettere insieme i pezzi ovviamente però non possiamo passare cosiddetto un approccio diretto del tipo leggo un testo e nel testo del problema deduco direttamente qual è il codice che lo risolve abbiamo visto prima nell'esempio che abbiamo fatto devo innanzitutto capire qual è il metodo risolutivo e poi codificarlo e molto spesso lo faccio per gradi il problema cominciamo a risolvere un pezzo cominciamo a calcolare le frequenze dei nomi poi una volta che abbiamo fatto questo ci aggiungiamo un altro pezzo che è quello di fare la classifica finita la classifica ci aggiungiamo un altro pezzo che è quello di fare gli histogrammi e poi ci aggiungiamo un altro pezzo che è quello di gestire i nomi multipli e poi ci aggiungiamo un altro pezzo e così via se noi pensiamo di fare tutto subito in un colpo solo non ci riusciamo non ci riusciamo perché non ci sta tutto in testa tutti i dettagli di cui dobbiamo tenere conto quindi un altro errore che si fa spesso è scrivere tutto il programma e poi eseguirlo e poi testarlo no scrivo 5 righe di programma e poi testo quelle se funzionano vado avanti ne aggiungo altre 3 4 5 7 e poi testo quelle devo andare avanti so che la soluzione è lì ma ci vado per gradi e ogni grado ogni piccolo passo devo essere sicuro che ciò che sto facendo sia corretto sia giusto se scrivete un programma intero e poi provate a farlo funzionare vi garantisco che non funziona e sarà anche molto difficile andare a capire dov'è l'errore qual è il problema se lo fate per gradi invece man mano che andate avanti costruite aggiungete un pezzo nuovo a un pezzo precedente che però già sapete che funziona quindi se ci sono dei problemi sono nel pezzo nuovo che avete aggiunto probabilmente quindi c'è una serie di tecniche che aiutano in questa creatività cioè non è la creatività dell'artista estroso ma è una creatività che deve essere incanalata in un metodo di lavoro e quindi per passare dal problema alla soluzione al programma che gioia quel problema dobbiamo ragionare sulla soluzione ragionare sulla progettazione spesso la prima cosa che fai è ti fai un'idea di quale può essere la soluzione o almeno un pezzo della soluzione anche informalmente anche a livello di intuito a livello di ragionamento a livello di parole ah sì potrei ragionarlo in questo modo ok proviamo a fare così proviamo prima a fare la tabella delle frequenze e poi vediamo come elaborarla queste sono frate che ci siamo dette abbiamo anche fatto varie ipotesi ci stanno poi ragionando sulle varie soluzioni sulle varie ipotesi di soluzione abbiamo capito che c'è una che ci convince di più ci pare più corretta e allora andiamo a formalizzarla facendo magari quell'operazione che ho fatto prima io mi trovo molto bene facendo pseudo codice si dice quindi degli elenchi puntati delle operazioni da fare poi ciascun punto di questo elenco corrisponderà poi a delle istruzioni nel programma ma quello viene dopo in modo che da avere la scaletta lo scheletro di quello che è la logica di esecuzione me lo posso leggere lo posso ragionare è ancora semi formale la soluzione cioè scritta in un documento non è ancora in un linguaggio di programmazione non mi serve ancora mettere quei dettagli li metterò dopo altri invece preferiscono formalizzare la soluzione in modo grafico attraverso i cosiddetti diagrammi di flusso con i quali faremo la prossima realizzazione di laboratorio queste sono questioni di preferenze semanticamente sono equivalenti l'importante qual è? è riuscire ad avere una rappresentazione precisa di ciò che voglio fare del metodo esolutivo in un formalismo che mi permetta di riuscire a ragionarci ragionarci provare provare a farla funzionare vediamo se mettiamo questi dati come fa cosa succede? lo simulo col dito non con la CPU poi se funziona allora poi lo codifichi in un linguaggio di programmazione e lo provo nella CPU ma a questo punto sono già sicuro non esiste in informatica ragionevolmente tranquillo che l'approccio che ho progettato sia corretto poi quando andiamo avanti il livello a cui si fanno questi ragionamenti di formalizzazione della soluzione diventa sempre più elevato al inizio dovremmo formalizzare anche i passaggi più elementari per impararli poi quelli diventano scontati allora scriveremo direttamente una parte di codice per le cose più semplici ma comunque dovremmo passare attraverso una formalizzazione una schematizzazione della soluzione più generale questo l'abbiamo già detto quindi il percorso come dicevo è quello di arrivare a decomporre i problemi e costruire le soluzioni a volte si dice che devi imparare a pensare come un computer non è proprio così per fortuna dobbiamo pensare come chi programma i computer però per poterlo fare devi riuscire a descrivere le procedure risolutive a un livello comprensibile dal computer allora immaginate un qualunque task della vostra giornata non so affitto e monopattino per andare in stazione oppure vado a prendere un gelato con gli amici oppure qualunque cosa ok pensate questo di spiegare non non di farlo voi ma di spiegare a un vostro amico come si fa ok adesso per farlo più difficile prendete l'amico più tonto che conoscete immaginatevelo fatelo cento volte più tonto e anche con un po' di deficit di comprensione non di comprensione ma di linguaggio è un vocabolario di 20 parole allora spiega all'amico ipertonto con un vocabolario base di 20 parole come si fa un task se da sudare a pensarci ecco così è programmare dici una cosa non ho capito ma come non hai capito perché il computer non capisce il computer fa esegue questo amico poverino c'ha dei problemi ma è veloce e preciso se tu dici una cosa la fa non è che c'è il dubbio che non la faccia ma la fa esattamente letteralmente come gliel'hai detta questo è programmare riuscire a spiegare a questo livello il metodo risolutivo per un problema nuovo su dei dati che dovrà risolvere un problema su dei dati che non conosco ancora allora lo strumento principale non è il computer per questa parte qua io metto carta e penna perché metto la foto di un cervello mi faceva un po' schifo però ovviamente la carta e la penna significa ragionarci a tavolino poi che tavolino magari è il blocco note perché io mi trovo meglio a scrivere così o a disegnare questi sono dettagli però il problem solving è ragionamento poi c'è la codifica e per immaginare com'è il mondo visto dalla CPU quindi come la CPU vede il programma che esegue noi dobbiamo fare lo sforzo di non usare le informazioni che al programma alla CPU non sono disponibili mi spiego prima quando abbiamo fatto la cosa dell'alzata di mano è comodo perché io vedo tutti ho informazione disponibile posso pescare l'informazione che mi serve il calcolatore può solo invece prendere l'informazione che ha nella memoria e solo se gli dico di prendere quella specifica informazione perché prima ho detto dovrei averlo ancora aperto qua analizzo il nome presente in ciascuna delle successive righe del file oh ma come sei pedante mi avrete detto non mi conoscevate ancora quindi non avrete esatto a dirmelo non potevi dire conta quante volte c'è quel nome eh ma il mio tonto conta quante volte c'è quel nome è troppo vago lo conto dove dov'è questo nome conta a partire da quanto da che valore iniziale fino a quanto quali sono i valori che l'universo dei valori che devo contare e sono tutti dettagli che devo dire eh non basta scorrere il file dico ma questo nome c'è tre volte no non è detto che ci sia tre volte attenzione per essere sicuro del valore di prendere una riga per volte in ciascuna riga dico tu sei tu sì ti incremento sei tu no allora non incremento e così via quindi dobbiamo immaginarci di lavorare ben dati in un certo senso no non abbiamo nessuna informazione se non quella che esplicitamente abbiamo definito io qua ho dato dei nomi n n 1 contatore conteggio ecco il programma deve lavorare l'ho chiamata tabella dati salvati no una tabella adesso impareremo a essere anche un pochino più formali però io ho esplicitamente detto che sto salvando questi dati e ti ho detto come faccio calcolarli cos'è n è il terzo campo della prima riga del file anzi la seconda riga perché nella prima ci sono i titoli cos'è n 1 è il terzo campo della riga successiva del file e lo sto prendendo 1 a 1 se ti dico come ottenere quel dato o come calcolarlo i dati nella tabella sono presi il dato il nome dal conteggio eccetera tutto il resto non esiste un dato di cui non ho specificato come fare ad acquisirlo oppure non ho specificato come fare a calcolarlo non lo posso usare ok non lo posso usare perché non ho non posso intuitivamente sapere che cos'è devo definirlo tutti questi dati queste informazioni possiamo far finta di avere un foglio di carta in cui ci sia l'elenco delle variabili che abbiamo definito qui ho usato questo termine per la prima volta variabili in informatica una variabile è un nome che associo a un valore l'ho chiamata n prima quella n vale vito vale mattia vale francesca e quindi so che n so che questa n ha un valore solo per volta e man mano che vado avanti questo valore cambia e quindi farò delle operazioni con questo n ma posso solo fare operazioni sulle variabili che ho definito che ho pensato esplicitamente di memorizzare allora questo punto d'arrivo il programma realizza un metodo risolutivo riprendo le cose che abbiamo visto il metodo risolutivo prende il nome di algoritmo l'algoritmo l'algoritmo non è il programma l'algoritmo è la procedura per risolvere un problema cioè da quali passi faccio quali sequenze di operazioni faccio quali confronti quali elaborazioni poi posso codificare un algoritmo in un linguaggio di programmazione però l'algoritmo lo posso disegnare questo è un algoritmo per montare dei Lego sono dei disegni però ci dà le istruzioni precise passo passo dei Lego l'IKEA sono degli schemi in realtà è quasi un linguaggio di programmazione visuale questo perché ha delle regole devi capirlo capire un due tre sono i vari passi capire che qua vuol dire che sono gli elementi che ti servono in questo passaggio e a fianco c'è l'istruzione su come collegarli eccetera eccetera c'è tutto un linguaggio con delle regole poi c'è l'icona che ti dice giro lo contrario poi ripetilo per due volte è alla fine un linguaggio di programmazione nel quale viene codificato l'algoritmo di montaggio di quell'elemento e dobbiamo fare attenzione quando esprimiamo questo algoritmo in un linguaggio che non è abbastanza formale che potrebbe essere ambiguo per quello usiamo i linguaggi di programmazione e non scriviamo in italiano per programmare perché l'italiano è troppo ambiguo non è abbastanza preciso ci sono sottintesi ci sono le ambiguità guarda questa frase qua la moglie che dice caro per favore vai al supermercato e prendi una bottiglia di latte ah se ci sono le uova prendine sei no scusate le banane scusate no se ci sono le banane prendine sei allora il programmatore Ligio torna a casa con sei bottiglie di latte e la moglie dice ma perché perché c'erano le banane ok perché c'è scritto se ci sono le banane prendi sei di bottiglie di latte lui ha capito in realtà questo prendine che viene in bring six è ambiguo six banana o six water from milk noi quando avremo un linguaggio di programmazione non qualunque linguaggio di programmazione non dovrà permetterci di costruire frasi fatte così dovrà sempre essere chiaro ed esplicito a che cosa mi sto riferendo sei di cosa e poi capite anche perché noi informatici a volte siamo un po' associati ecco perché alla fine per mestiere impariamo a pensare così ok allora prima di arrivare al codice non possiamo subito scrivere il codice a questo livello di dettaglio dobbiamo prima passare dal metodo esolutivo e poi formalizzarlo via via il termine algoritmo viene usato proprio per riassumere la sequenza di operazioni necessarie per risolvere un problema ed è la parte come dicevo la parte creativa la parte progettuale del nostro lavoro dal problema alla sequenza di operazioni che incrociando le dita risolve il problema poi si può codificare in modo diverso si può rappresentare in modo diverso l'algoritmo attraverso diagrammi di flusso attraverso pseudocodice anche attraverso nel testo in linguaggio naturale purché sia fatto con in mente la precisione dovuta perché ci dà un modo di riuscire a espandere un po' la nostra mente cioè nella mente non riusciamo a tenere un ragionamento troppo complicato troppo articolato allora lo mettiamo su carta e ci aiuta a ragionarci un pezzo per volta ok? questo è il motivo noi dobbiamo darci degli strumenti per aiutarci a ragionare su una cosa più complicata di quella che riusciremo a pensare direttamente senza ausilio adesso noi non andremo mai a fare cose così complesse ma pensate che il software è la cosa più complessa che l'uomo riesce a fare cioè se voi pensate che non so magari quelle meraviglie della natura in un ponte no? con ponte su un braccio di mare per cui rimane bocca aperta quando le vedi pensa quanto è complicato ecco se vai a contare quanti bulloni ha quel ponte sono molto meno delle righe di codice di Windows la complessità se voi quando uscite di qua accedete l'auto se non ce l'avete non rubate nemmeno una per farlo quell'auto lì ha più righe di codice nelle varie centraline elettroniche che non parti meccaniche ok? quindi il vero problema dell'informatica è gestire la complessità che va al di là della capacità di qualunque mente umana e l'unica difesa che abbiamo è andare per piccoli pezzi segmentare astrarre semplificare dividere e per aiutarci a ragionarci poi il computer non ha problemi se ha eseguire un miliardo di righe di codice siamo noi che abbiamo problemi a scriverle quindi dobbiamo riuscire a descrivere ciò che abbiamo in mente in una forma soprattutto non ambigua abbiamo già visto che danno che danno può fare l'ambiguità in una forma eseguibile cioè in una forma che la CPU il calcolatore che ho a disposizione sia in grado di eseguire se io faccio l'esempio il parallelo con la ricetta di cucina se dico a un certo punto che devo tritare il parmigiano allora o sono sicuro di avere l'attrezzo per tritare oppure quell'istruzione non la posso dare posso dare istruzioni solamente se sono sicuro che l'hardware è in grado di supportarla quindi io devo sapere quello che dicevamo prima quando io scrivo il codice devo già sapere quali sono le istruzioni che mi mette a disposizione il mio linguaggio di programmazione questo capita e poi l'altra caratteristica importante degli algoritmi che devono terminare cioè non può esistere un programma che va avanti all'infinito perché avere un programma che al giorno infinito più uno mi dà il risultato non è molto utile adesso uno non lo fa apposta però a volte ci sono per errori di programmazione si rischia di creare delle iterazioni dei cicli in cui non è chiara la condizione di terminazione e quindi devo fare attenzione anche a quello perché altrimenti non è un algoritmo se non termina non è un algoritmo algoritmo calcolare il valore di pi greco no non esiste perché poiché il valore di pi greco per sua natura ha infinite cifre decimali non può essere un algoritmo per calcolarlo possiamo dire calcoliamo le prime mille cifre allora sono d'accordo quindi anche il problema stesso a volte deve essere posto in modo da avere una soluzione perché esista una soluzione definibile in tempo finito noi non li abbiamo chiamati algoritmi forse ma li conosciamo già da quando siamo bambini che ci insegnano dei metodi per risolvere una certa cosa calcolare l'area del cerchio mica siamo nati così a un certo punto ci hanno insegnato che l'area del cerchio è pi greco r al quadrato quindi il raggio lo moltipli per se stesso moltipli per quel numeraccio che è pi greco e hai un numero oppure il teorema di Pitagora che ti calcola l'ipotenusa dati i cateti eccetera questi sono se vogliamo semplici non sono stati semplici da scoprire per chi li ha inventati ovviamente ma per noi sono semplici da applicare algoritmi che risolvono un piccolo problema e questi in qualche modo li riduciamo a una semplice formula abbiamo dietro secoli di matematica questa matematica è implementata ovviamente nelle formule diciamo nelle funzioni del linguaggio di programmazione e la radice quadrata per fare il quadrato per fare r quadro oppure la radice quadrata per fare il teorema di Pitagora ce la sa fare il computer e quindi per noi semplicemente ricordarci la formula giusta e scrivere la formula giusta in altri casi pensate al minimo comune denominatore tra due numeri no massimo comune divisore cosa ho detto mcd massimo comune divisore tra due numeri roba che abbiamo imparato boh alle medie a fare devi prendere i numeri li scomporre in fattori primi poi devi prendere tutti con il massimo comune divisore tutti i fattori primi comuni col grado più basso era così perché poi c'era minimo con il multiplo invece devi prendere tutti i fattori comuni e non comuni col grado più alto o no fa lo stesso siete voi che dovete dare l'analisi allora lì è un metodo che più o meno ci ricordiamo possiamo andarselo riguardare sul libro è un metodo che però è fatto di più passi uno dopo l'altro di cui già il primo passo mi mette in crisi cioè trovare i fattori scomporre i due numeri in fattori primi allora a mano lo so fare però se già dovessi dirlo a un calcolatore allora anche operazioni molto semplici cose che fanno un bambino di 12 anni sa fare l'MCD e l'MCM meglio di come non lo ricordo io non è poi così banale invece da insegnare al calcolatore perché passa da una prima operazione cioè scomporre i fattori primi che è più complicata del resto in realtà ma magari ci sono algoritmi diversi per trovare lo stesso risultato più semplicemente magari domani ne facciamo uno insieme nella video lezione basandosi magari sulle proprietà dell'MCD per cui tu dici se io sottraggo i due numeri tra di loro ciò che ottengo è ancora a sua volta divisibile proprietà matematiche che non abbiamo scartato perché non ce ne fregava niente ma che magari tornano utili per impostare l'algoritmo risolutivo in un modo diverso da come farei a mano già prima ci siamo accorti che il modo in cui insegno il calcolatore a eseguire una certa operazione è diverso dal modo in cui la farei io a mano e quindi anche qua dobbiamo trovare qual è il modo migliore per il calcolatore per trovare quei risultati ok io mi fermerei qua oggi domani prendiamo magari alcuni di questi esempi e proviamo a ragionare in termini di algoritmi misolutivi ricordatevi domani su zoom non mi ricordo a che ora ma c'è scritto sull'ordario grazie grazie grazie